Confermo che contenevamo favorevolmente per insegnarci per la prassoluzione di questi bambini. Solo una piccola recitazione. Se un bambino non, diciamo, disiede in un territorio appartenente alla norma di un plesso scolastico, non è, credo, usare l'istituzione per proteggere l'appartenenza. Ci sono due cose diverse. Detto ciò, voleremo favorevolmente perché il nostro scuolo principale è aiutare la popolazione e aiutare i bambini a trovare il corpo, che è una cosa molto, un problema molto, come sentire nel nostro territorio.